Beautiful, anticipazioni americane, tensioni a casa Forrester per Steffi. Anticipazioni Beautiful, ne vedremo delle belle nel corso dei prossimi episodi della sua poppera americana. Beautiful continua a essere una delle sua poppera più apprezzate del palinsesto televisivo italiano, con una media di 3 milioni di telespettatori a puntata. Nei prossimi episodi della sua app statunitense ne vedremo di tutti i colori e in Italia terrà banco il personaggio di Sheila Carter, la psicopatica terza moglie di Eric, che è determinata a tutti i costi a scoprire il legame tra Richie e Queen. La donna, infatti, vuole tutelare l'ex marito ed è decisa a sbarazzarsi della Fuller qualora dovesse scoprire che non è la persona più adatta a Eric. Nel frattempo, molti dei nostri protagonisti stanno per partire per Monte Carlo per una sfilata di moda a cui prenderà parte anche Sally Spectre in compagnia di Thomas. Proprio nella cornice monegasca non mancheranno le emozioni e ne vedremo delle belle. Anche in America ci saranno delle storie vincenti e oggi vogliamo darvi delle news in questo proposito. Chi è sparato a Bill? Sembra ormai certo, che nel corso delle prossime puntate di Beautiful assisteremo a un tentato omicidio. Ebbene, a rischiare la vita sarà Bill Spencer, che si ritroverà a essere bersaglio di molti nemici. Le anticipazioni della sua app incentrata sulla famiglia Forrester ci informano del fatto che l'editore si ritroverà ad avere tensioni con molti dei nostri beniamini e qualcuno si spingerà oltre, deciso a sbarazzarsi di lui. Chi sarà la mano pronta a uccidere Bill Spencer? Quello che è certo è che quanto accaduto tra l'uomo e Steffi non farà altro che aumentare la tensione nella famiglia più incasinata di Beautiful. Prigge, in particolar modo, si ritroverà ad affrontare varie volte la figlia, per cercare di capire cosa sia successo la maledetta notte del tradimento. Prigge, dal canto suo, anche invitato li ama il suo matrimonio con Brocchi per fare in modo di riavvicinare la figlia e il marito ma senza successo. Padre e figlia, nel corso delle prossime puntate, torneranno a parlare del tradimento di Steffi di Bill e di come questo abbia compresso duramente il suo matrimonio con Liam. Rigge sarà sempre più convinto che Bill abbia approfittato di Steffi in un momento di debolezza, per colpire il figlio Liam. Proprio con queste premesse potremmo avvicinarsi al tentato omicidio di Bill Spencer. Ora, inoltre, c'è da chiedersi cosa succederà adollar Bill dato che l'interprete Don Diamond sembra ormai arrovolato nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Grazie a tutti.